Ciao amici Oggi siamo a Fiorenzuola di Focara, una piccola frazione di Pesaro Un magnifico borgo fortificato, a picco sul mare, all'interno del Parco Naturale del San Bartolo A Natale il paese è ancora più suggestivo, diventando borgo presepe Le antiche stradine si adobbano, e ad ogni angolo è possibile ammirare un presepe Le antiche stradine si adobbano, e ad ogni angolo è possibile ammirare un presepe Oggi l'atmosfera è ancora più affascinante Sotto di noi una fitta coltre di nebbia nasconde il mare, e ricopre le simose colline nell'entroterra Poco distante, riconosciamo il castello di Gradara, che sorveglia la vallata Se ti è piaciuto questo video lascia un pollice in alto Se hai particolarmente apprezzato il nostro lavoro, puoi supportare il canale con un super like Donando così una piccola cifra a sostegno di Amarche.it Iscriviti al canale, attivando la campanellina per essere sempre aggiornato Amarche.it Meravigliose scoperte Amarche.it 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 Grazie a tutti.